Buongiorno lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di premio strega. Non è una novità, infatti se seguite il canale fin dagli esordi sapete che ogni anno mi piace dedicare qualche video, una serie di video al premio strega. Nel 2020 e nel 2021 ho letto e recensito tutti i candidati al premio. L'anno scorso non li ho letti tutti, ne ho letti soltanto alcuni selezionati, quelli che mi interessavano di più. E vorrei fare lo stesso anche quest'anno, vorrei anche quest'anno dedicare al premio strega qualche video da pubblicare appunto sul canale per condividere con voi le impressioni di lettura riguardo ai 12 candidati. Premesso come vi ho spiegato nel video precedente che ho attraversato un periodo abbastanza pieno e complicato e di conseguenza non ci ho nemmeno provato a star dietro, a seguire agli 80 se non sbaglio. titoli proposti dagli amici della domenica. Ogni anno si raggiunge un nuovo record ma apriamo e chiudiamo parentesi. Andiamo direttamente invece a scoprire la dozzina e alla fine del video vi svelerò anche quali sono i titoli che mi interessano di più e che ho intenzione di leggere. Cominciamo subito con il primo candidato, andiamo rigorosamente in ordine alfabetico, vale a dire la Sibilla di Silvia Ballestra, edito la terza. La Sibilla è la biografia romanzata di Joyce Lussu, moglie di Emilio Lussu. Joyce Lussu è stata oltre che una partigiana anche una giornalista, una traduttrice, una poetessa e la Sibilla è, a quanto capito, è la biografia romanzata di questa donna che ha sempre coniugato, ha sempre accompagnato la parola all'azione. Proseguiamo con Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone, edito e in Audi. Calandrone è stata candidata al premio strega, se non sbaglio, due anni fa con il libro Splendi come vita. Splendi come vita era un libro autobiografico in cui l'autrice raccontava del suo rapporto tormentato con la sua madre adottiva. Infatti Maria Grazia Calandrone è stata abbandonata quando era ancora in fasce dai suoi genitori biologici ed è stata poi adottata dai Calandrone. E Dove non mi hai portata è sempre un libro autobiografico in cui l'autrice racconta il suo percorso di riscoperta delle sue radici, delle sue origini. Andiamo con il terzo titolo, vale a dire La traversata notturna di Andrea Canobbio, edito La nave di Teseo. Dovrebbe essere la storia di un uomo che malato di depressione decide di ritornare nella sua città d'origine, vale a dire Torino, e di provare a superare e a metabolizzare alcuni eventi traumatici del suo passato. La sua storia comincia durante gli anni della seconda guerra mondiale e copre tutto il secondo novecento. Il quarto titolo è Come Daria di Ada D'Adamo, edito Elliot Edizioni. Anche questo titolo è autobiografico ed è la storia di Daria, che è la figlia dell'autrice che soffre di una malattia fin dalla nascita. Quando la madre, l'autrice, a 50 anni scopre di non star bene e di essere malata, decide di rivolgersi alla figlia e di dare forma a quella che è stata la loro storia e il loro rapporto. Quindi questo libro racconta di un rapporto viscerale tra una madre e una figlia. E più o meno è la stessa tematica affrontata anche da Una minima infelicità di Carmen Verde. Quindi andiamo un po' oltre l'ordine alfabetico. Una minima infelicità di Carmen Verde è invece Edito Neripozza e anche in questo caso si racconta di un rapporto viscerale tra madre e figlia. In quanto le protagoniste sono una madre e appunto sua figlia, la madre si vergogna della figlia per via del suo aspetto fisico. Il quinto titolo candidato allo strega di quest'anno è Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, edito Laurana. Si tratta di un romanzo ambientato durante il secolo scorso, il cui protagonista è un uomo che è stato incaricato di tracciare una mappa delle ferrovie del Messico. Questo è un romanzo che è diverso dagli altri candidati della dozzina di quest'anno, ma in generale è una tipologia di romanzo che non si incontra spesso tra i candidati al premio strega, in quanto, da quanto ho capito, è un racconto ricco di eventi, ricchissimo di personaggi, e quindi è un romanzo che mette al centro la dimensione narrativa, il gusto di narrare, di raccontare una storia con un intreccio bello corposo, bello complesso. Quindi una candidatura insolita rispetto ai libri che siamo abituati a vedere tra i candidati al premio strega. Proseguiamo con il sesto titolo, voglio dire, Le perfezioni di Vincenzo Latronico, edito Bonpiani. I protagonisti sono due giovani che sono emigrati a Berlino perché desiderosi di condurre una vita libera e di avere successo, effettivamente sembra che abbiano raggiunto tutti i loro obiettivi, hanno un ottimo lavoro, vivono in una bella casa, ma una volta raggiunta l'età adulta si chiedono se la loro felicità sia effettivamente autentica o se sia solo una facciata. Ho sentito parlare bene di questo romanzo, quindi sarei anche curiosa di leggerlo. Settimo titolo, Rubare la notte, di Romana Petri, dovrebbe essere la biografia di Antoine Saint-Exupery, ovvero l'autore del Piccolo Principe. Libro famosissimo e a mio avviso il mondo si divide in due categorie. Da un lato chi ama il Piccolo Principe e dall'altro chi lo detesta. Io spero di non perdere tutti gli iscritti al canale, non sopporto il Piccolo Principe, però la biografia dell'autore di questo famosissimo romanzo, di questo famosissimo racconto, ha del romanzesco essa stessa. L'autore ha vissuto un'esistenza davvero, una vita davvero rocambolesca e avventurosa, e quindi devo dire che anche questo romanzo promette di essere interessante. Tra l'altro Mondadori, se non sbaglio, è da un bel po' che non vince il premio strega. Questo romanzo è appunto edito Mondadori, quindi potrebbe essere uno dei candidati favoriti. E passiamo all'altro grande favorito, al premio strega di quest'anno, vale a dire Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino. Edito invece Feltrinelli, casa editrice che a sua volta non vince il premio strega da un po'. Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino, che racconta di un gruppo di ragazzi, di bambini, orfani, siamo nel 1992, che fuggono da Sarajevo per trovare rifugio in Italia. Allora, io di Rosella Postorino ho letto Le Assaggiatrici quando aveva vinto il premio Campiello, quindi se non sbaglio nel 2018, non vorrei sbagliarmi, però comunque 4-5 anni fa. Romanzo che mi incuriosiva tanto, ma che alla fine mi aveva deluso, tant'è che di Rosella Postorino poi non avevo più letto nulla. Questo titolo mi incuriosisce sì e no, nel senso che non sembra una storia originalissima e poi ho il timore che l'autrice l'abbia declinata in termini sentimentali. Non so se mi sono spiegata, però anche con Le Assaggiatrici era successo lo stesso. La storia era partita bene, mi intrigava tantissimo l'idea di fondo appunto delle assaggiatrici che provavano i cibi di Hitler, del Führer e poi tutto era un po' degenerato in una storia sentimentale. Quindi ho il timore che succeda lo stesso anche con questo romanzo, però vedremo insomma. Poi Cassandra Amogadiscio di Ijabascego, edito sempre Bonpiani, è la storia di una ragazza somala che vive in Italia e che prova sulla sua pelle l'esperienza della diaspora, dello sradicamento. vale a dire quella sensazione di appunto non avere radici, di non sentirsi a casa da nessuna parte né nel paese in cui si vive né nel proprio paese d'origine insomma. Proseguiamo con Il continente bianco di Andrea Tarabbia, edito Bollati Boringhieri è la storia di un giovane ragazzo che ha fondato un movimento di estrema destra violento ed è convinto che l'unico modo per sopravvivere sia esercitare odio e controllo sugli altri. Il protagonista avrà poi una relazione con una donna e diciamo che da quanto ho capito questa relazione non avrà poi un esito felice. Tornare dal bosco di Maddalena Vaglio Tenet, edito Marsilio, è la storia di una professoressa, di una maestra, di un insegnante che ha fatto perdere le proprie tracce e si è rifugiata in un bosco e poi appunto ha fatto perdere le proprie tracce perché è traumatizzata dal fatto che una sua alunna di undici anni è morta suicida e quindi evidentemente le due vicende sono tra loro legate. Di una minima infelicità di Carmen Verde e di Tonneri Pozza abbiamo già parlato prima, quindi direi che abbiamo concluso la nostra carrellata, abbiamo visto tutti i dodici candidati. Adesso invece vi svelo quali ho intenzione di leggere. Allora, di sicuro Ferrovia del Messico, questo non me lo lascio sfuggire. Sapete che io sotto sotto sono una lettrice semplice, se mi seguite da un po', se mi conoscete sapete che mi piace ogni tanto concedermi qualche romanzo dove la dimensione narrativa è quella preponderante. Mi piacciono banalmente le belle storie, avvincenti, ricche di eventi, di personaggi, quindi non mi lascio sfuggire Ferrovia del Messico. Mi piacerebbe anche recuperare Rubare la notte di Romana Petri, quindi la biografia di Exupery. Poi credo che recupererò anche il titolo che mi ispira maggiormente, devo dire, tra tutti, è Tornare dal Bosco di Maddalena Vaglio Tenet, quindi questo sicuramente lo leggo e ho visto anche che è disponibile in formato audiolibro, quindi top, e poi anche Cassandra Mogadiscio affronta una tematica che comunque mi sta a cuore, che mi interessa, quindi voglio recuperarlo. Tra l'altro io di Giabascego non ho mai letto niente, cosa di cui mi vergogno anche un po', quindi consigliatemi qualche titolo nei commenti. Poi, in forse metto, mi lievitavo ad amare te di Rosella Postorino, quindi lo lasciamo un po' lì, forse sì, forse no, così come anche una minima infelicità di Carmen Verde, penso che leggerò questi. Mettiamo in forse anche le perfezioni di Vincenzo Latronico, perché ne ho sentito appunto parlare molto bene, in particolare da Marco Cantoni, quindi anche questo lo lasciamo in riserva, ecco. Ah no, e poi dimenticavo, voglio assolutamente leggere, anche questo mi incuriosisce tantissimo insieme a Tornare dal Bosco, la Sibilla di Silvia Ballestra, perché non conosco la figura di Joyce Lussu, mi intriga, mi suscita davvero la mia curiosità, quindi sicuramente recupererò questo. Mentre non penso proprio di leggere quello di Calandrone, Dove non mi hai portato, avevo letto Splendi come vita e sì, lei è una scrittura molto poetica, però ho un po' l'idea, magari anzi sicuramente falsa, di ritrovare un po' le stesse cose all'interno di questo secondo titolo, quindi per ora mi faccio bastare Splendi come vita. Poi, la traversata notturna non mi ispira per niente, devo dire la verità, come d'aria, così così, mentre anche che non mi ispira per niente e non penso sia comunque il periodo adatto per leggere un libro del genere, visto il blocco del lettore da cui sono appena uscita, è Continente Bianco, penso che non sia il titolo più adatto a me, specialmente in questo frangente. Fatemi sapere quali sono i titoli che incuriosiscono invece voi, quali avete già letto, quali avete intenzione di leggere e condividete tutto nei commenti. Ovviamente condividerò le mie impressioni sui candidati all'interno di video dedicati proprio al premio strega qui sul canale, quindi se siete appassionati al premio strega, ma in generale vi piace leggere, amate i libri e la letteratura, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei video, seguitemi anche su Instagram e su TikTok, trovate i link alle mie pagine qui sotto, io vi mando come sempre un bacio e un abbraccio e vi do appuntamento prestissimo, al prossimo video, ciao!